Ehi ragazzi, se non vi siete mai allenati prima, sappiate che non è mai troppo tardi per iniziare. Scoprite come ho cambiato completamente la mia vita. Un anno fa, che dire, ero un vero pantofolaio. Sempre stanco, sempre con una scusa pronta per evitare di muovere un muscolo. Ma poi, qualcosa è scattato. Ho deciso che era ora di cambiare le cose. Ho iniziato in piccolo, con delle semplici passeggiate. Appena 10 minuti al giorno, niente di che. Piano piano, quei 10 minuti sono diventati 20, poi 30. E la cosa incredibile? Mi sentivo meglio. Ho trovato un gruppo di amici con cui allenarmi. Insieme abbiamo corso, ci siamo sfidati a vicenda. Ora non riesco a farne a meno. L'energia, la felicità, quella sensazione di avercela fatta. È fantastica. Se ce l'ho fatta io, potete farcela anche voi. Non aspettate il momento perfetto perché non esiste. Iniziate oggi, fate quel primo passo. E vi prometto che vi innamorerete dello sport, proprio come è successo a me. A presto e ricordatevi, il cambiamento parte sempre da noi stessi.